Ma sai, certamente questa Atalanta può arrivare in fondo, chiaramente nel momento in cui poi le altre, il Milan, fatica, poi la Roma arranca e chiaramente c'è un'Atalanta che è così grintosa, forte e vogliosa di far bene, con quell'attaccante che si ritrova a Mastadontico là davanti chiaramente può fare certamente, può strofare certamente bene, ora sono usciti anche dall'Euro League quindi possono dedicarsi al campionato e alla Champions, penso che ci siano delle buone probabilità o quantomeno saranno a gioco per la Champions League